e ritroviamo anche quest'oggi padre Ernesto della Corte, il nostro amico biblista in conversazioni bibliche. Bentrovato, buona Pasqua della settimana padre Ernesto. Buona Pasqua della settimana a te, ai nostri tecnici e soprattutto alle amiche e agli amici che con fedeltà ci seguono ogni domenica. E sì, puntuali aspettano questo momento in cui ci caliamo nella liturgia del giorno. Oggi il Vangelo può apparire un po' difficile, ma sicuramente sarà capace come sempre di sorprenderci e di regalarci un meraviglioso insegnamento di vita, utile per tutta la settimana, non solo, ma tutta la vita. Teniamo conto, cara Anna Maria, care amiche e cari amici, che quando arriviamo verso il termine del ciclo, siamo quasi al termine del ciclo C, poi a dicembre, fine novembre noi riprenderemo con l'anno, con il ciclo A e quindi cambiamo poi il Vangelo. Noi partiamo sempre dai Vangeli cosiddetti escatologici che ci annunciano la seconda venuta e chiudiamo anche con questi Vangeli, per cui sembrano un po' più difficili, ma in realtà tutto sta a entrarci dentro. Certo, dopo l'opisodio di Zaccheo, che abbiamo visto domenica scorsa insieme a quello del ceico, c'è stata la parabola delle mine e Gesù è ora a Gerusalemme. È molto bello vedere in Luca una sorta di salto triplo che fa Gesù. Se andiamo a guardare il capitolo 19, noi lo troviamo a Betface e Betania, cioè dietro la collina del Getasemani. Poi subito dopo, in 1941, è alla vista della città, quindi lui può contemplare la spianata del Tempio. E poi subito dopo, in 1945, quindi pochissimi versetti dopo, Luca ce lo fa vedere già nel Tempio. Come mai questo salto, come mai non ci fa vedere quando entra? Perché evidentemente Luca ancora una volta sottolinea quella profezia del profeta Malachia e subito entrerà nel suo Tempio il Signore che voi state cercando. Perché per Luca il Tempio è importante, è Gesù il Tempio. Quello che sostituisce quella casa fatta di pietre, ora il Padre rivelerà nel Figlio tutto quello che vuole dire a noi. Gesù è iniziato nella sinagoga di Nazareth, al capitolo 4, e ora lo troviamo subito nel Tempio. Il Tempio è la sua casa. Gesù vuole mostrare la relazione speciale che ha con il Padre. Anzi, qualche versetto dopo dirà avete trasformato questo luogo santo, la casa di mio padre, in un covo di briganti. Perché le autorità, come al solito, c'è una degenerazione del culto, l'attaccamento al potere, ai soldi. E Gesù fa quel gesto che effettivamente è un gesto profetico, quello di ribellarsi a questo commercio nell'aria sacra. Che cosa succede con Gesù che è a Gerusalemme? Abbiamo delle controverse, abbiamo delle discussioni. C'è stata subito al capitolo 20 sulla moneta di Cesare e oggi c'è questo testo estremamente interessante. Chi sono i protagonisti? Arrivano da Gesù nel Tempio i Saducei, che sono la classe sacerdotale. Vengono per sottoporgli un caso giuridico. Un caso effettivamente giuridico perché nella realtà una donna che ha sette mariti sembra davvero un'esagerazione. È il cosiddetto caso giuridico. Una donna che resta vedova, per la legge del levirato, come c'era nell'Antico Testamento, levirato viene dal levir. Levir in ebraico significa il cognato. Quando una persona moriva e non lasciava una discendenza, il fratello non sposato del morto poteva sposare la vedova e il figlio che nasceva dal loro rapporto era considerato figlio del defunto. Questa è la legge del levirato. Questa donna nel caso giuridico, un caso estremamente teorico, ne sposa addirittura sette di questi fratelli. Per cui i Saducei hanno questa curiosità giuridica, forse poco teologica, ma nella resurrezione di chi sarà moglie. È una domanda molto capziosa, anche perché i Saducei non credono affatto nella resurrezione finale. Chi crede nella resurrezione finale sono i Farisei, per cui già in partenza si vede una sorta di grande pretesto solo per poter accusare Gesù. La cosa strana è che Gesù davanti a questa domanda accetta, ma non parla della resurrezione, prestandosi in questo modo anche alla contestazione. Ma che cosa fa? Gesù le fa una questione esegetica, molto bella, perché lui cita il capitolo 3 al versetto 6 del grande libro dell'Esodo, dicendo Dio non è Dio dei morti, ma è il Dio dei vivi, perché tutti vivono per lui o in lui. Un testo che sembra non parlare della resurrezione, di fatti parla su Dio, sulla identità di Dio. Ma è proprio qui, direi, il centro del Vangelo di oggi è l'originalità. Gesù si rifà alle scritture, quindi alla rivelazione del Dio vivente, e riconduce questo dibattito sulla resurrezione a un centro unificante che è l'amore di Dio. Dio è fedele. Se Dio ama l'uomo, ecco cosa ci insegna Gesù oggi, non può abbandonarlo in potere della morte, perché Dio è Dio dei vivi, non della morte. Dio non ha voluto la morte, dirà il libro della sapienza. E fin qui la risposta di Gesù controbatte, direi, i sadducei, i quali respingevano la fede nella resurrezione, per cui la loro dottrina fa morire le anime con i corpi, nega la sopravvivenza, quindi sostenevano polvere sei e polvere ritornerai, quel testo famoso di Genesi al capitolo 3, versetto 19. Ma la polemica è rivolta anche contro i farisei, i quali concepivano la resurrezione alla fine dei tempi, ma la concepivano in termini materiali, per cui i morti risorgeranno con gli stessi vestiti, avranno le stesse infermità, se erano sordi saranno ancora sordi, se erano ciechi sono ancora ciechi, insomma è una iatura, un modo davvero stranissimo di concepire la resurrezione. Gesù che cosa fa? Afferma che la vita dei morti sfugge agli schemi di questo mondo presente, è una vita diversa. Perché diversa? Perché è una vita divina, è una vita donata, è una vita eterna e definitiva. E quindi Gesù per questo dice uso questa parola in greco, simile agli angeli. Dice proprio così il testo. Ma quelli stimati, degni di ottenere quel mondo e la resurrezione dei morti, non prendono né moglie né marito, non ci sono più questi rapporti che sono invece qui nella storia. Infatti, aggiunge Gesù, non possono più morire perché sono isoangeloi, uguali agli angeli. E aggiunge, e sono figli di Dio, essendo figli della resurrezione. Quindi è una risposta davvero degna di nota. D'altra parte però, vogliamo anche far capire che Gesù, non solo la risposta dei saducei, risponde anche ai farisei. Perché la vita eterna è sulla resurrezione. La resurrezione non è un'immortalità che può appartenere già all'uomo, è un dono che viene fatto da Dio a quelli che egli ritiene degni. Per cui, mentre il pensiero greco rimane essenzialmente dualista, corpo, anima, e si parla di immortalità, la Bibbia preferisce parlare di resurrezione. La riflessione è molto forte. Mentre nel mondo greco l'uomo viene visto con una grande componente spirituale, incorruttibile, che sopravvive al corpo, il pensiero giudaico invece cerca la ragione della vita definitiva nella fedeltà di Dio. Israele scopre la resurrezione con la fedeltà di Dio. Dio è fedele. Se ci ha creati, ci ha voluti, ci ama, ci guida, non può abbandonarci nel sepolcro. Ecco perché in questo Vangelo, molto bello oggi, la resurrezione non è assolutamente un prolungamento dell'esistenza presente. Non è la rianimazione di un cadavere. Potremmo dire che la resurrezione è un salto qualitativo. Ecco perché egli dice questo mondo, l'altro mondo. Potremmo dire c'è una nuova esistenza, in un mondo che è altro, è tutta un'altra cosa, perché l'uomo ci entra in questo mondo completamente, con tutta la sua integrità, per un dono. Ecco allora la promessa di Dio, che ci assicura che la realtà della persona entra in una vita nuova. Ed è un Vangelo consolante, dopo che in questi giorni abbiamo anche celebrato la commemorazione dei defunti. Questa frase ci risuona davvero come una luce che si accende. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Infatti tutti vivono in Lui o vivono per Lui. È veramente interessante. Quindi oggi potremmo davvero fare nostro questo Vangelo, ringraziando il Signore di averci dato questa certezza che è speranza, cioè una realtà certa. È il Dio della vita, non della morte. E a chi ritiene degno, a chi in questo Aldi qua vive davvero secondo il Vangelo, si aprono le porte dell'Aldilà, perché è Dio ad aprirci, è Dio a condurci dentro quella vita nuova. È un dono meraviglioso che comincia già qui, nella realtà di questa storia, se viviamo in comunione, intima con Lui. Ringraziando il Signore, ringraziando te e riprendendo il ritornello del Salmo responsoriale. Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. È molto bello questo Salmo 16. Come pupilla dell'occhio proteggimi, l'ombra mi copre delle ali tue, oh Dio. Bellissimo, questa sorta di grande preghiera che dice di coprirci con le ali. È una sorta di custodia. Ecco, mettiamoci oggi sotto la custodia, sotto le ali del Signore. È un'immagine molto materna di Dio. È un Dio che ha cura di ognuno di noi. E questa è davvero la grande speranza che abbiamo nel nostro cuore oggi. Grazie per oggi, Padre Ernesto. Come sempre, ci ritroviamo la prossima settimana. Buona Pasqua della settimana a te. Buona Pasqua della settimana. Shalom. Salmo. Salmo.